Perchè sta capitando tutto questo? Perchè lo so, nessuno di voi desiderava che scoppiassi questa merda. Lo capisci? Ecco perché questo mondo va protetto. Tu sei come me, vero? Non hai una casa. Non hai importanza da un modo, ma a quanto pare non c'è modo di scappare da qui. Non c'è bisogno che ci vada anche tu! Fermati! Io voglio vedere le stesse cose che vedi tu, crescere, diventare grande con te. Perchè diavolo l'hai fatto? Fratelloni! Fratelloni! Aspetta! Aiutami! Grazie! 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 Grazie!